finalmente finalmente ci siamo ci siamo questa mattina ci saranno le visite mediche al j medical finalmente finalmente ci siamo abemus abemus manuel locatelli abemus locatelli abemus centrocampista abemus regista ragazzi max allegri è stato accontentato abemus manuel locatelli manuel locatelli sarà un nuovo giocatore della juventus l'accordo tra juventus e sassuolo finalmente è stato raggiunto una vera tenerovela estiva un vero tormentone estivo questa volta non quelli cantati da alvaro solerne le classiche canzoni estive questa volta è stato un vero tormentone estivo questo questo accordo questa trattativa tra juventus e sassuolo dopo tre quattro mesi di trattative di accordi mancati finalmente è stato raggiunto questo accordo per il trasferimento con l'opzione del prestito biennale e del diritto di riscatto dopo due anni a quasi 35 milioni quindi l'accordo totale per il trasferimento del neo campione d'europa del giocatore che ha trascinato il sassuolo nelle ultime tre stagioni dell'ex promessa rossonera sarà un conguaglio di circa 35 milioni tra i bonus alcuni facili da recepire e altri più difficili un accordo totale quindi su una base di 35 milioni tra juventus e sassuolo e quindi si può considerare conclusa l'esperienza in maglia nero verde al mapei stadium con la formazione emiliana dopo 99 presenze e anche sette reti quattro messe a segno nell'ultima stagione la più prolifica la più importante della carriera che lo ha messo anche in rampa azzurra perché dal 2020 è un giocatore comunque che è stato selezionato anche nella nazionale di roberto mancini 15 presenze tre reti tra le quali due messe a segno nell'europeo che lo ha visto tanto protagonista che lo ha visto anche alzare il proprio cartellino da circa 25 30 al cartellino che alla fine comunque è stato pagato che sarà pagato dalla juventus per le prestazioni di manuel locatelli dopo 63 presenze e due reti messe a segno tra il 2015 e il 2018 con la maglia rosso nera la decisione del club rosso nero di vendere questa promessa questo giocatore comunque che sarebbe stato futuribile sarebbe stato comunque il futuro del diavolo il futuro del milan per circa 14 milioni con un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto obbligatorio a circa 12 milioni un'operazione complessiva con tra i 14 milioni e quindi dopo queste tre queste tre annate vissute con la maglia del diavolo due reti messe a segno proprio contro la juventus e poi contro il sassuolo due euro goal per manuel locatelli l'esperienza triennale con la maglia nero verde 99 presenze 7 reti tra le quali 4 messe a segno nell'ultima stagione 34 presenze 4 reti la convocazione ad euro 2020 con la doppietta nella seconda partita contro la svizzera 15 presenze 3 reti con la maglia della nazionale un centrocampista tutto fare che può giocare in più ruoli può giocare in tutti e tre ruoli al centrocampo ma la posizione preferita vista anche le caratteristiche tecniche le caratteristiche che accompagnano manuel locatelli la posizione preferita è quella di regista dietro davanti alla difesa ecco ragazzi sicuramente un giocatore che serviva nello scacchiere del centrocampo del centrocampo bianconero mancava un giocatore del genere con queste caratteristiche dopo l'addio a miran pianic il prossimo obiettivo del centrocampo bianconero del mercato bianconero ma intanto coccoliamoci questo grandissimo acquisto e dopo la presentazione con la maglia numero 21 di caio orge ecco ragazzi il secondo il secondo acquisto di questo mercato bianconero prestito biennale e riscatto a circa 35 milioni pagabili in più sessioni di calcio mercato si parla tra le 3 e 5 sessioni di calcio mercato per pagare i 35 milioni al sassuolo più anche una percentuale di rivendita della tra il 10 e il 20 per cento da garantire al club emiliano ma intanto è tutto vero è tutto vero manuel locatelli sarà un nuovo giocatore della juventus abemus abemus centrocampista abemus manuel locatelli grazie per attenzione lasciate tantissimi like al video iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su facebook e instagram ci vediamo in un prossimo video